Il sesto idrogeologico è un tema importante intanto perché impatta sulla vita quotidiana dei cittadini, quindi abbiamo l'obbligo di porci delle domande e soprattutto di aiutare i decisori a prendere delle decisioni per l'appunto in linea con quelle che oggi sono anche le conoscenze scientifiche e i passi fatti fino adesso. Io credo che uno dei punti importanti sul quale concentrarsi è questo rapporto costante che oramai nel nostro paese è veramente strutturato tra le attività in emergenza e le attività in ordinario. È un tema molto importante perché spesso in passato si è utilizzata l'emergenza per sopperire a carenze di progettazione e pianificazione. Un passo decisivo sarà trovare l'equilibrio tra questi due elementi, anche il Proteggi Italia rappresenta questo spunto di equilibrio raccogliendo anche un po' quella che era la sfida in tema di protezione civile e dell'ultimo codice di protezione civile che pone sul rapporto tra l'ordinario e lo straordinario un punto di riflessione importante, cioè come l'emergenza contribuisce in una pianificazione sul distorsi idrogeologico di livello nazionale che sia ovviamente in linea con quelli che sono i piani e che vengono evidenziati dagli eventi emergenziali. Questa è una delle sfide che si propone anche questo tavolo sul distorsi idrogeologico e credo che ognuno di noi darà il proprio contributo qualificato per raggiungere ad un obiettivo che è comune.